Il terreno è scesa nel vallone, si è preso gli alberi, perché là sono tutti alberi, si è preso gli alberi che avevano 30-40 anni, non si tagliavano più da anni, si è preso gli alberi e se li ha portati giù. E' arrivato nella pianura, nella pianura si è preso tutti gli orti e i vigneti, con le pietre, guardate qua dietro, e si è sceso giù. Tutti i massi e i terreni non ce l'hanno fatto, la portata è enorme, è andata a finire una parte nel vallone e una parte fuori il vallone. Grazie